Come vi avevo promesso, facciamo una pausa e un bel esercizio. Anzi, direi che è la dignità di un mini progettino. L'obiettivo finale sarà quello di avere un anagrammatore di un certo peso, per cui dovremo poter contare su un vocabolario di parole italiane davvero ampio, in modo che il motore a forza bruta che andrà a generare tutte le combinazioni delle lettere di una parola sappia riconoscere veramente le parole che poi hanno un senso in quanto inserite nel vocabolario della lingua italiana. Primo step e primo progetto. Ho recuperato per voi su internet tre vocabolari già abbastanza ricchi, le dimensioni vedete anche molto diverse tra di loro. Alcuni contengono solo sostantivi, mentre altri anche le forme coniugate dei verbi. Bene, noi fonderemo questi tre file in un unico file chiamato, non so, italiano, che non è, vedete, dai kilobyte la somma esatta degli altri tre, perché questi file contengono dei doppioni, parole che sono contenute in almeno due di loro o addirittura tutti e tre contemporaneamente. Vanno filtrate e vanno scartate e inserite una volta sola nel risultato finale. Ed una rapida occhiata ai file separati suggerirà alcune precauzioni. Non è detto che in tutti e tre le parole inizino con la lettera maiuscola, mentre possiamo dare come un dato di fatto che siano già ordinati. Non sarebbe comunque un grosso problema, no? Basterebbe caricare tutte le parole in un vector, ordinarle e poi riscrivere il file. Questo è vocabolario 2, ottiene anche le singole vocali, ma non dovrebbero creare problemi, verranno trattate come parole come tutte le altre. E infine vocabolario 3, che è anche quello più corposo, perché comprende anche le forme verbali a ballinare. Vabbè, non sapevo neppure esistesse un termine del genere e quindi mi sento un po' bacchiato. Va bene, passiamo al codice. Nell'include ho bisogno dell'fstream per gestire i file. So che non abbiamo ancora trattato questa parte dalla STL, gli stream, però il codice è molto leggibile, vedrete che non avrete nessun problema a seguire l'algoritmo. E cctype, perché contiene una funzione to lower, che converte un char, un carattere, in minuscolo. Ovvio che se già lo è, rimarrà in minuscolo. Questo è un rifuso, perché stavo per scrivere. Le abitudini sono dure a morire. La funzioncina che poi trasforma un'intera parola in minuscolo, perché vorrei uniformare tutte le parole prese dai tre vocabolari, non avere il problema qualcuno in maiuscolo, qualcuno ha la prima lettera in maiuscolo. Ho deciso, leggo la parola dal file, la trasformo in minuscolo, così andrò a fare i confronti, gli inserimenti, la costruzione del vocabolario finale, con tutte le parole, tutte in minuscolo. Ma poi si è acceso un neurone che mi ha fatto controllare se per caso ci fosse un algoritmo dell'STL che può fare questa cosa in modo più intelligente. E siccome l'ho trovato, via. Per praticità ho caricato l'elenco con i nomi dei file che dovranno essere elaborati, letti, i tre vocabolari, ma potrebbero essere anche trenta, in questo vector di stringhe. Il vocabolario finale, risultato della fusione, è questo, che dovrà essere registrato su file al termine. Questo ciclo è quello principale. Per ogni file da elaborare, quindi per ogni stringa, nome file, nel vector file da fondere, quindi alla prima iterazione questo nome file corrisponderà a vocabolario 1, poi vocabolario 2, e così via. Definiamo un oggetto input, dobbiamo leggere, input f sta per file, input file stream, un flusso di caratteri prelevato da nome file, che chiamo leggi. Quindi i comandi di lettura saranno tutti indirizzati a questo oggetto leggi. Prendi la prossima riga da leggi. La stringa parola servirà per memorizzare le righe lette dal file, perché la lettura dai file di test procede così, uno dei modi più comuni, quantomeno, leggere una riga dopo l'altra, che nel nostro caso corrisponderanno anche, queste righe, ad altre tante parole. Siccome le parole sono decine, arriveranno quasi a 200.000 o supereranno 200.000, mi sembra, adesso andremo a vedere, ci vuole del tempo, e soprattutto se avete un pc non stellare, potrete venire il dubbio, ma si è impallato tutto o sta procedendo l'algoritmo? Quindi diamo minimo di feedback, quando inizio un nuovo file lo dichiaro, lo scrivo, poi conto partendo da zero le parole elaborate di ciascun file, perché poi ogni mille stamperò la parola che si sta elaborando in quel momento, in modo da poter apprezzare il progresso dell'algoritmo. Ecco il classicissimo ciclo while, con cui si legge tutto il contenuto riga per riga da un file di testo. While il comando getLine, prendi una riga, ha successo, continua. GetLine tenta di leggere una nuova riga, da dove? Dal file indicato qua, depositando il contenuto di quella riga nella stringa indicata come secondo parametro. Quindi se entriamo nel ciclo while, avrò in parola il prossimo termine da elaborare. Se siamo entrati nel while, vuol dire che posso anche incrementare il numero delle parole, conta parole più più. Alla bruta, divido per mille, vedo se il resto è zero, se lo è, stampo anche, sto esaminando la parola tal dei tali. Attenzione, ora arriva l'utilizzo di una funzione interessante di algoritmo che permette di trasformare ogni elemento, o l'intervallo che si indica come al solito, di un container in qualcos'altro. Il risultato potrà depositarlo o nello stesso container oppure anche in un altro. Nel nostro caso la destinazione è il container stesso d'origine. Ogni suo elemento, ogni singolo carattere, verrà trasformato in minuscolo e rimesso allo stesso posto, nello stesso container. Non male, potrò quindi scrivere una sola riga con il transform, invece della funzione contenente un ciclo sui caratteri come stavo per fare prima. Transform considera uno dopo l'altro gli elementi del container nell'intervallo indicato come origine, la nostra parola, chiaramente stiamo lavorando carattere per carattere, la stringa considerata come un vector di char. Questo è l'inizio del range, dell'intervallo del container destinazione, in cui depositare il risultato, e ho indicato ancora parola begin stessa. Vuol dire che ogni carattere verrà trasformato in minuscolo e rimesso al posto originale. Il terzo parametro dovrà chiaramente specificare che trasformazione vogliamo effettuare su ogni char di questa stringa. Dovremmo indicare una funzione, un oggetto funzione, un limite a una lambda, questa volta ho provato con una funzione, la to lower della libreria indicata, come ho detto prima, nel leader cctype, che accetta, come prevede la transform, un singolo elemento dello stesso tipo del container, carattere, e restituisce, sì, un intero, che però sappiamo essere assimilabile ancora a un carattere, secondo la codifica ASCII. Asci non perde l'unicode, altrimenti ci perdiamo alla grande. C'è una stranezza apparentemente che è questo qualificatore, perché non semplicemente to lower? Provate, vi darà un errore, perché il compilatore non saprebbe scegliere tra due versioni to lower, due overload. Questo perché ci sono due header, che definiscono il loro spazio di nome, l'elenco delle funzioni, degli oggetti che contengono, entrambi a livello del namespace std. E in tutte e due c'è una funzione, leggermente diversa, ovviamente, come overload, che ha lo stesso identificatore, identificatore, to lower. Uno dei modi per aggirare questa situazione è fare riferimento allo spazio globale, cioè esterno a tutti i namespace. Ed è lì che stiamo cercando, con questo operatore due punti ai punti. Cerca la funzione to lower nello spazio globale. E delle due versioni di to lower, quella che ci interessa, è definita anche lì. L'altra no. Per cui in questo modo stiamo beccando proprio l'overload che fa il caso nostro. Se la cosa vi disturba, provate ad esempio a scrivere una piccola lambda, che accetta un carattere e fa la trasformazione. Allora, abbiamo letto la prossima parola da uno dei file. L'abbiamo trasformata in minuscolo. Dobbiamo andare a vedere. Se già si trova nel vocabolario formato fino ad ora, la ignoriamo. Altrimenti la aggiungiamo. Qui abbiamo due strade. Per cercare la parola potremmo utilizzare il metodo find, nel caso costruissimo il vocabolario senza mantenerlo in ordine, man mano che lo stiamo costruendo. e così a pelle sarebbe più lento. Oppure ogni nuova parola inserirla mantenendo l'ordine alfabetico crescente nel vocabolario finale. Questo ci permetterebbe di utilizzare ricerche come la binary search, che però non mi darebbe poi l'informazione di dove poter inserire la parola nuova. Ecco perché ho utilizzato invece la lower bound, che abbiamo visto l'altra volta, che si ferma sulla prima parola già presente nel vocabolario finale, che è maggiore o uguale in senso alfabetico a quella che stiamo cercando. Ora vi proietto un piccolo diagramma per capire che cosa sto facendo. Immaginiamo di aver inserito fino a questo momento nel nostro dizionario finale queste cinque parole abate, abazia, casa, dado e mare e che la parola successiva letta da uno dei tre file sia coro. Dove si ferma la ricerca con l'ower bound? A quale elemento punterà l'iteratore che ci fornisce come risultato? al primo, che è in senso alfabetico, maggiore o uguale della parola che stiamo cercando. Supererà quindi casa e quando arriverà su dado, l'iteratore, saremo su una parola che è la prima, che è maggiore o uguale di quella che stiamo cercando. L'iteratore, lo vediamo poi nel codice, lo ha chiamato trovata. Nel senso, non necessariamente esattamente la parola coro, ma la prima trovata, la prima parola, che è maggiore o uguale, in questo caso maggiore, di coro. Non è un caso che l'ower bound mi dia il puntatore all'elemento che seguirà la posizione di coro una volta aggiunta, perché è proprio quello che richiede il comando insert del vector, cioè per inserire qualcosa dopo casa, tra casa e dado, l'insert richiede l'iterator all'elemento che seguirà quello nuovo da aggiungere una volta inserito, un iterator ad dado, che è proprio quello che ci ha restituito il lower bound. Ecco il codice con cui comando la ricerca, localizza la prima parola maggiore o uguale di quella che stiamo cercando nell'intervallo tra l'inizio e la fine degli elementi attualmente inseriti in fusione, da abate a mare. Ma come fare a capire se una parola va inserita o no? Tre sono i casi che possono capitare. La parola non c'è e quella da inserire è più grande di tutte quelle che già ci sono. Invece di coro potrebbe essere zuzzerellone. Dove finirà la trovata? Oltre l'ultimo elemento. Non ne troverà nessuno maggiore uguale di zuzzerellone. Trovata proseguirà fino ad eguagliare AND. E abbiamo la prima condizione che poi andremo a codificare nell'IF. Se trovata è uguale a AND, un dei casi che ci interessa. Oppure, secondo caso, proprio quello che abbiamo davanti agli occhi coro non c'è in mezzo alle cinque parole trovata si fermerà su dado. E possiamo capire che non abbiamo trovato un doppione cioè che trovata non punta a coro stessa già presente dal confronto tra la parola che stiamo cercando coro e quella che troviamo indicata da trovata. Si fa un confronto parola con parola. Vediamo che sono diverse allora coro va inserita. Tornando al codice dovrebbe essere abbastanza facile capire il significato del test di questo IF. Se trovata è uguale alla fine AND oppure sono su una parola che non è uguale a quella che vorrei inserire procedo con l'inserimento. L'inserimento è banale è fusione insert fornendo come posizione trovata la nuova parola. Verrà inserita prima di quella puntata da trovata. Fuori dal while significa che abbiamo consumato uno dei file. Lo chiudiamo per poter utilizzare con un nuovo file fisico il riferimento leggi e poi questo magari ve lo spiegherò quando parleremo di file resettiamo i bit di stato che mi indicano se c'è stato un errore di lettura il disco rovinato cose di questo tipo. Si ritorna al ciclo for che cambierà file e rileggerà tutte le sue parole e così via. Abbiamo praticamente finito non ci rimane che travasare tutto sul file fisico italiano. Questa volta apriamo uno stream tipo output file stream che poi potremo utilizzare come se fosse il video per ogni stringa s parola che trovi in fusione scrivila cioè stampala sullo stream di output scrivi come se questo fosse il cout e l'operatore di inserzione è ancora lo stesso voi pensate a scrivi come se fosse il video elegantissimo. importantissimo chiudere lo stream di output altrimenti perderemmo l'ultimo pezzo che non verrebbe probabilmente trasferito su file. Fine. Ho aggiunto giusto per la registrazione perché altrimenti perderei la partenza dell'algoritmo questo chin pronti. Vedrete l'inizio che scorrerà velocissimo l'elenco avranno esaminate molto velocemente le parole dei primi due file che è già arrivato il secondo il terzo e qui si comincia ad arrancare un paio di considerazioni non è certo l'algoritmo più efficiente ma certamente è molto semplice da seguire e poi era anche un pretesto per sollecitare varie parti della STL una tecnica migliore non dimentichiamoci che i tre file sono già ordinati potrebbe essere quella di considerare in contemporanea una parola letta da ciascuno tre file prendere la più piccola e se già non presente aggiungerla al dizionario poi si rimpiazza la parola tolta dal file con la prossima disponibile presa dallo stesso file ovviamente ma pensatoci un attimo visto che andremo sempre a scegliere tra le tre parole quella più piccola le nuove che verranno inserite saranno sempre più grandi di quelle che le han precedute per cui le nuove parole dovranno sempre essere a colpo sicuro collocate in fondo al vector con un bel pushback operazione velocissima molto più veloce di una insert ho intanto finito due minuti seconda considerazione non ci sarà per caso un container nella STL più adatto del vector per queste operazioni dove gli inserimenti sono molto frequenti ed è necessario mantenere un ordinamento sto pensando al set un container che internamente utilizza puntatori come le liste gli alberi binari per l'esattezza bilanciati e sembra fatto apposta per casi come questo dopo aver visto il programma che sfrutta adesso questi dizionari per gli anagrammi direi che una visitina al set ci sta proprio a risentirci per l'esattezza